e la foto? un attimo sul video la foto Luca? prima di partire e dopo il giro ah vai partenza un quarto di batteria va via benvenuti un po' e qui si a foto un quarto di batteria un quarto di batteria la foto e qui Grazie a tutti. 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 Luca Cinqui. Grazie a tutti. 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 Vai, vai Luca, vai. Grazie a tutti. 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 Curva. Curva. Grazie a tutti. 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 Sì. Così. Ah, io pensavo di passare al calancone, no? Lì? Io passerai là. Mi dici anche di no, mi dice. Pensa Danny, io volevo passare a tagliare su per il greppo. Vediamo la potenza e il chilo ottaggio. Non era neanche con il più agile. mamma mia grazie bravo Mario anche te porca boia bravo anche il guetto è lì aspetta non si tira fu come on come on come on come on come on come on wow vai 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 Sì Sì